Ci siamo signori, Pausa Caffè, live in compagnia di Max per chi non mi conoscesse. Innanzitutto bentornati, benvenuti e parliamo dell'Isola dei Famosi perché qui c'è un attimino un passo indietro fatto da un personaggio, tra l'altro tanto che è chiacchierato. Cosa è successo? Il reality show condotto da Hilary Blasi è iniziato da poco, subito dopo il grande fratello Vip, dove si vede che il pubblico si può in qualche modo ancora continuare ad intrattenere con queste avventure leggermente diverse, non siamo all'interno di una casa ma siamo in Honduras con i naufraghi che sono i partecipanti al programma. Ebbene, come molti sanno Marco Predolin è stato il primo nominato e non è che l'abbia molto presa bene, accusando addirittura gli altri di essere finti, cosa che lui invece non è. Quindi come sarà finita questa storia? Andiamo ad indagare subito. Lui si è così sfogato con Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, che ha cercato di consolare il presentatore tv, la prima nomination è un po'. Comunque se ti può far star sereno io non ti ho nominato. Immagino che ti dia fastidio. Proprio sulla naufraga si sono concentrate le chiacchiere e i gossip degli ultimi giorni. Si è parlato di un fidanzato segreto e pure di una strategia che l'ex suora avrebbe adottato per sfruttare il successo avuto a The Voice of Italy. Ma c'è anche un altro personaggio di cui si è discusso parecchio. Stiamo parlando dell'amico di Cicciolina. L'anno scorso Ilona Staller, che tutti conoscono col nome d'arte di Cicciolina, ha partecipato all'Isola dei Famosi. E il pubblico ha potuto conoscere il suo legale, l'avvocato Luca Di Carlo. Un personaggio che ha colpito l'attenzione di tanti telespettatori. Così si è parlato di una sua possibile partecipazione proprio nel reality di Ilari. Ma secondo le indiscrezioni l'AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi avrebbe posto il suo «No», sull'ipotesi di vedere Di Carlo all'isola. Si pensava che la decisione di allontanare certi personaggi dai programmi Mediaset fosse definitiva dopo quanto accaduto al GF VIP, ma c'è una clamorosa novità. Luca Di Carlo andrà all'Isola dei Famosi. Lo scopone è stato lanciato dai Gossip.it che, con rullo di tamburi in sottofondo, fa sapere, nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi, condotta dalla presentatrice TV Ilari Blasi, il famoso legale del compianto Michael Jackson, della famiglia di Pablo Escobar e Ilona Staller farà il suo debutto in Honduras. Era stato Alberto Dandolo di Dago Spia a svelare i nomi dei possibili concorrenti all'Isola, vittime della decisione di Berlusconi di ripulire il reality da vipponi ritenuti a rischio trash, da Gianmarco Onestini, fratello di Luca, ex Temptation Island e la pupa e il secchione, a Luca Di Carlo, appunto. Fatte, fuori, si fa per dire, pure le gemelle Elga e Serena e Nardu, protagoniste a uomini e donne. Niente da fare pure per Gianmaria Sainato, lifestyle influencer già visto nel programma Riccanza, dove litigò duramente con Tommaso Zorzi. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.